Piazza del Campo, alle mie spalle il Palazzo Pubblico, la sede del Comune di Siena, tutta la parte amministrativa e sono al numero 1, questo è il numero 1 del Piazza del Campo all'ingresso per accedere all'intero Palazzo. Noi stiamo per proporvi un programma che ha il titolo di In Comune, per cui significa in nel senso all'interno del Comune e andremo a intervistare tutto il gruppo con il Sindaco in testa, il Vice Sindaco e gli Assessori che hanno praticamente iniziato la loro attività dopo le elezioni del giugno dell'anno scorso, per cui significa che sono passati circa 10 mesi, conosceremo queste persone facendo delle interviste monografiche divise in due parti, la prima parte sarà più rivolta alla persona per cui la curiosità del percorso di vita di ogni singolo soggetto e poi la seconda parte su quelle che sono le esperienze di attività amministrativa in questi 10 mesi e poi quelle che sono un po' le loro sensazioni, chiaramente sempre rivolte a quella che è la nostra bella città. Allora seguiteci in Comune e vi presenteremo Sindaco, Vice Sindaco e gli Assessori. Grazie a tutti!